Ciao, ho un annuncio importante da darvi. Girerò tutta la Toscana insieme ai parlamentari, ai consiglieri comunali, ai nostri candidati a sintaco, per incontrare le 10 province toscane. Partiremo il 15 marzo, dedicheremo mezza giornata a provincia, parleremo di strade, scuola, lavoro, occupazione. Incontreremo il mondo produttivo, l'associazione di categoria del mondo dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria, per parlare insieme anche ai presidenti di provincia di temi concreti che interessano la vita quotidiana dei toscani. Parleremo anche delle iniziative del governo, dei 27 milioni di euro all'anno stanziati per le province, per le strade e le scuole e parleremo anche delle iniziative in regione per lo sviluppo economico per la nostra meravigliosa regione toscana.